Clima rovente nel comune di Castellabate dopo l'ultimo consiglio comunale dove si è approvata la variante urbanistica per la realizzazione del polo scolastico e sportivo che verrà realizzato in via Palatucci nella frazione Santa Maria. L'assessore Nicoletti punta il dito contro la minoranza, intervento finanziato per 5 milioni di euro. Purtroppo però il contributo fattivo dei colleghi di minoranza, sottolinea Nicoletti, è stato quello di esprimere un voto contrario e tre astensioni, meno male che il contributo dei colleghi di maggioranza che ha espresso 9 voti darà inizio alla realizzazione dell'intervento. Da qui la replica del capogruppo di opposizione Alessandro Loschiavo per fare chiarezza e rispondere all'assessore Nicoletti. Corre l'obbligo intervenire nel dibattito politico che si è innescato negli ultimi giorni a seguito dell'ultimo consiglio comunale che ha visto l'approvazione della variante urbanistica per il polo scolastico e sportivo, che ha visto l'aumento dell'Atari. Insomma un consiglio comunale che ha determinato una serie di situazioni, soprattutto uno succede di dichiarazioni da parte del sindaco e dell'assessore che inevitabilmente mi portano a rispondere e ad entrare a gamba tesa nel dibattito politico che si è innescato. Io chiederei innanzitutto all'assessore una maggiore onestà intellettuale prima di rilasciare queste becere e dichiarazioni e una maggiore attenzione durante il dibattimento in consiglio comunale. A questo argomento e quindi al polo scolastico e sportivo sono stati dedicati sostanzialmente già due consigli comunali durante i quali la minoranza nel suo complesso ha dibattuto, argomentato, sollevando criticità, preoccupazioni, riflessioni di natura sociale, economica, di natura tecnica. Non da ultimo io ho allegato agli atti del consiglio un'eccezione che riguarda una recentissima sentenza Tar-Salerno, proprio sui suoli attenzionati, sui suoli che saranno oggetto di variante urbanistica. Voglio dire, deve andare cauto con queste dichiarazioni perché tutto quello che noi abbiamo detto in consiglio comunale è agli atti del consiglio. Noi ci siamo preoccupati del fatto che un domani questa imponente struttura che sorgerà via Pallatucci potrà determinare delle conseguenze su ogni singola frazione. Oggi abbiamo un plesso scolastico a San Marco, come a Castellabate, come ad Alano, come ad Ogliastro, come a Lago, che sono gli ultimi avamposti, baluardi di legalità, di trasparenza, centri di aggregazione culturali che potranno essere cancellati perché un domani, in un futuro non molto prossimo, quando ci sarà una nuova governanza scolastica, ci sarà una nuova amministrazione comunale, ci saranno nuove normative che saranno più stringenti, che imborranno magari di convogliare tutte le popolazioni scolastiche in questo polo scolastico, allora le nostre preoccupazioni sono legittime. Vogliamo parlare dell'indotto economico che subirà reali conseguenze ai bar, alle rusticcerie, alle edicole presenti attorno a queste strutture. Ecco, noi di questo ci siamo preoccupati, ecco perché la nostra astensione, ecco perché il nostro voto contrario. Noi siamo favoribili alle opere pubbliche, alle infrastrutture, ai finanziamenti europei, nazionali, regionali che possono toccare Castellabate. Però rilasciare queste beccele dichiarazioni per nascondere magari quelli che sono i ritardi di questa amministrazione comunale in termini di infrastrutture, perché l'assessore non ci ha detto perché i parcheggi ancora non sono stati costruiti, l'assessore non ci ha detto perché ancora non abbiamo un cineteatro, l'assessore non ci ha detto perché i tanti dossier importanti sono costuditi nei cassetti dell'amministrazione comunale, perché non parliamo dell'accordo raggiunto con la parroccia di Santa Maria Mare che permetterebbe di creare un'arteria di sfogo importante alle spalle della casa comunale con tanti locali commerciali che affacciano sulla piazza stessa. Perché non abbiamo ancora all'annunziata, al franco genito, la fognatura che avete avuto il coraggio di aprire un cantiere in piena campagna elettorale per chiuderlo alla fine della campagna elettorale stessa di tre anni e mezzo fa, per prendere in giro le persone, i cittadini, per prendervi i voti. Perché ancora non avete il decreto di finanziamento del porto? Perché non abbiamo un piano urbano comunale, caro assessore? Perché il territorio è invaso, è stuprato dal cemento, da un'edilizia, dal mattone, di queste mega costruzioni che vengono fatti da forestieri che non lasciano nessuna traccia all'economia del nostro territorio? Ecco, preoccupiamoci di questo, caro assessore, preoccupiamoci di dare una politica urbanistica seria a questo territorio.